Ciao bambini! Vi presento la mia nuova gelateria! Guardate, è davvero bellissima! Si chiama la gelateria del castello! E oggi faremo tantissimi buon gelati! Eh sì! E con noi oggi ci saranno i super piziamini e Peppa e George! Bene, iniziamo subito la puntata! Credo proprio di essere pronta! Qui ho tutti i miei accessori! Di là invece ho tutta la pasta che mi servirà per poter fare dei buonissimi gelati! Ah, che bello! Non vedo l'ora! Guardate, ci sono un sacco di stampini da poter fare! E ci sono tanti attrezzi carini! Uno più bello dell'altro! No, vedo l'ora di mostrarveli tutti! Ah, quando arriveranno i super piziamini? Oh, ma sta arrivando Peppa e George! Andiamo a salutarli! Ciao Peppa! Ciao George! Ciao Lily! Oh, quando è che facciamo i gelati? Ah, fra pochissimo George! Stiamo aspettando i super piziamini! Oh, quelli sono sempre in ritardo! Eh, Fatima ne sono accorta! Se volete nel frattempo possiamo fare un po' di decorazione così saranno già pronti per i nostri gelati! Cosa dite? Oh, sì, sì, sì! Come funziona? Oh beh, guardate, venite con me! Vedete, qua possiamo fare un orsacchiotto, una palla, una ciambella gigante, c'è anche un cornetto qua! Oppure c'è un fiocchetto, una conchiglia... Ci sono davvero tantissime cose! Guardate, un cuoricino, un altro orsacchiotto... Sono davvero tanti! Io direi che possiamo iniziare a fare degli orsacchiotti! Oppure anche un bel cuoricino! Dai Peppa, scegli tu la pasta! Ecco, guarda Lily, ho scelto questa pasta qui! Ah, ma perché l'hai presa viola? Io la volevo blu! Dai George, la prossima volta la prendi tu! Ok, va bene! Dai, scendi da lì! Sì, va bene, scendo! Dai, apriamo il barattolo! Ecco, fatto! Adesso cosa dobbiamo fare? Adesso prendiamo un pezzettino di pasta e lo andiamo a mettere proprio qui sopra! Ok, va bene, penso di farcela! Allora, prendo un pezzettino di pasta... Così può bastare? Sì, sì, può bastare! Vieni pure a scegliere! Ok, allora, vediamo un po'... Mi piacerebbe o l'orsacchiotto oppure anche un bel cuoreccino! Io farei l'orsacchiotto! Ok, allora vieni pure qua! Ecco il tuo orsacchiotto! Ok, allora metto il mio impasto qua e poi spingo! Giusto? È così? Sì, bravissima Peppa! Spingi! Ok! Adesso cosa faccio? Adesso lo puoi togliere! Va bene, allora aspetta... Che bello! Guardate, bambini! Ho fatto il mio primo orsacchiotto! Guardate quanto è carino! Vi piace? Adesso lo devo pulire un po'. Allora... Facciamo così... Tolgo tutto quello che c'è intorno... Vi piace? Guardate quanto è carino! Ecco fatta la mia prima decorazione! Questa andrà sul mio gelato! Dai George, tocca a te! Ecco, io ho scelto questa pasta qui, blu come me, il mio colore preferito! Adesso apro il barattolo! Ecco fatto! Ho preso un bel pezzettino! Vieni pure di qua! Che scegliamo che cosa fare! Ok! Beh, io avrei già scelto! Che cosa? Questa mega ciambella qua! Ah ok, va bene! Oh aspetta, ecco! Quindi metto la mia pasta qui? Esatto! E poi devo spingere? Esatto! Spingi bene! Ok, mi sa che ho fatto! Ok, allora puoi tirare fuori! Va bene! Allora... Speriamo che sia venuta! Guarda la mia ciambella! Guarda che bella! È bellissima! Oh, la devo pulire per bene! Aspettate, bambini, torno subito! George, guarda che ti stiamo aspettando! Sì, sì, ecco fatto! Guarda! Ecco la mia ciambellina! Wow, George, hai fatto un ottimo lavoro! Sì, però ne manca la glassa sopra! Oh, fa vedere! Oh, sì, hai ragione! Beh, aspettate, vado a prendere un po' di colore! Prendo quello che avevi anche tu, Peppa, quello viola! Ecco qua! Allora, con questo provo a fare dei piccoli cilindri! Allora, qua mi servirebbe il rullo! Ce l'hai il rullo? Sì, aspetta che te lo vado a prendere! Tieni, George! Oh, grazie! Allora, adesso faccio che stendo e poi col coltello taglio delle strisce piccole e piccole, così! Ecco fatto! Adesso prendo le mie strisce e le metto qui sulla ciambella! Oh, una, due, e devo fare anche delle più piccoline! Mettiamo, così, tre, poi anche questa, quattro, un'altra, e un'altra! Oh, bravo, George! Aspetta che non ho terminato, adesso la devo sistemare un po'! Allora, così, così... Ecco la mia ciambella, vi piace? È bellissima, George! Oh, grazie, Peppa! Allora, io ho il mio orsacchiotto, tu hai la tua ciambella... Manca solamente il gelato! Oh, sì, facciamo il gelato adesso, George! Sì, ok, andiamo! Ma, ragazzi, i super pigiamini, che strano! Beh, vuol dire che farete in tempo a fare il vostro gelato! Eh, mi sa tanto di sì! Vabbè, quando arrivano faranno loro! Sì, ottima idea! Ecco, Peppa, guarda, questa è la base per il nostro gelato! Ok, allora, lo prendo e lo andiamo a mettere laggiù! Così! Dai, vieni, George! Sì, arrivo! Faccomi qua! George, chi lo fa il gelato? Lo faccio io o lo fai tu? Beh, io direi che... Lo puoi fare tu! Io aspetto qua, controllo, e tu vai su! Ok, va bene, io vado di sopra, allora! Quando sei pronta, dimmelo, eh! C'eravamo dimenticati la pallina di gelato! Veloce, prima che Peppa arrivi! Uh, Peppa, aspetta, eh! C'eravamo dimenticati una cosa! Allora, ecco! Ok! Adesso puoi andare con la crema! Dunque, io questa pasta dov'è che la devo mettere? Forse lì dentro, vediamo! Oh! Oh, sì! Proprio qui dentro! Ecco! Fatto! Ok, George, io sono pronto, eh! Sto per spingere! Tu controlla sotto! Sì, Peppa, lo vedo, lo vedo! Vai, spingi! Wow! Sta venendo proprio bene! Che spettacolo, Peppa! Fatto! Puoi venire giù! Oh, mamma mia, George, ma abbiamo fatto uno spettacolo di gelato! Oh, sì! Poi aspetta che ci mettiamo le nostre decorazioni sopra! Siamo stati bravissimi! Secondo me i PJ Masks non ci batteranno! Hai ragione! Dai, aiutami a prendere il gelato! Ok! Dai, prepariamolo adesso! Dai, George, inizia tu con la ciambella! Ok! Allora, io metterei la ciambella proprio qui, così! Tocca a te! Allora, io il mio orsacchiotto lo metto... ...sulla tua ciambellina! Così! Oh, che spettacolo di gelato! È bellissimo, Peppa! Però gli aggiungerei qualcosa! Che cosa? Un po' di granelli di caramelline qui! Sì, hai ragione! Mi sa di aver visto l'attrezzo proprio laggiù! Allora, prendiamo un po' di pasta e andiamo laggiù! Ok! Vai, George! Ok, giro! Sta uscendo, Peppa! Sì, sì, sta uscendo, sta uscendo! Vai, continua! Ok, può bastare! Oh, fa vedere! Oh, sì, possono bastare! Dai, andiamo a mettere il suo nostro gelato! Eh, George, direi che così è perfetto! Cosa dici? Sì, è fantastico! Abbiamo il gelato più bello e più buono del mondo! Guardate, bambini! Vi piace? È davvero stupendo, vero? Siete stati bravissimi! Oh, guardate! Eccoli! Oh, i super pigiamini! Ben arrivati! Oh, scusate, ragazzi! Abbiamo avuto un problema con la mia gecomobile! Mmm, vabbè, io tanto con George abbiamo iniziato a fare il nostro gelato! Wow, mamma mia! Ma proprio bello questo gelato! Ma l'avete fatto voi due, per davvero? Sì, sì, hai visto? Siamo stati bravissimi! Ma complimenti, George! È davvero fantastico! Oh, ragazzi! Speriamo che anche noi riusciremo a farne uno, bello come loro! Ma sì, Gatto Boy, ne dubiti? No, no, assolutamente! Bene, allora dai! Mettiamoci al lavoro! La puntata di oggi è terminato! Io e George abbiamo fatto il nostro gelato! Ma mi raccomando, tornate nel prossimo episodio perché sarà il turno dei super pigiamini a fare il loro gelato! E poi dovrete decidere quale sarà il gelato più bello! Quindi mi raccomando, non mancate! E se vi è piaciuto questo episodio, mi raccomando, lasciateci un like! Ciao a tutti, bambini! Sono arrivata per prima il compleanno di Pizzei! Chissà dove è il gatto boy! Speriamo che non arriva prima che noi portiamo tutto! Lui doveva prendere le candorine! Questa buona torta è già qui! Adesso metto il mio coniglietto qua! Così! E noi abbiamo le candorine! Tranquilla! E' andato lui a prenderle! Sì! Ciao ragazzi! Ma voi siete già tutte pronte a vestite belle belle! Io ho un vestito messo al contrario! No! Tranquilla! Io sto tornando da scuola! Vedi che vestitino! Dove vai? Oh sei qui! Ma stai male? No! Mi ha girato un po' la testa e mi sto preoccupando tanto tanto se gli piacerà la nostra torta! Ma è certo che gli piacerà, vero? Sì! Guarda quanto è bella! Però te non hai messo il tuo coniglietto! E' vero! Devo mettere il coniglietto! Lo metto qui! Va bene! Le candele lui dove le mette? Non lo so! Vediamo! Adesso quando arriva lo facciamo mettere le candele! Sta arrivando qualcun'altra! Oh ragazzi! Siete tutte qui! Guardate cosa ho trovato! La scritta Happy Birthday! Proprio per lui! Sì! È vero! È bellissima! Aspetta! Fammi la mettere in maggio! Qui! Adesso che aspettiamo? Eh! Ma deve arrivare ancora Luffetta! Geko! Chissà dove saranno mai! Li andiamo a cercare? Ragazzi! Noi andiamo a cercare gli altri! Voi! Distratta un attimo il gatto boy! Va bene? Sì! Certo! Va bene! Andate! Andate! Ciao ciao! Oh guarda! Sta arrivando il gatto boy! No no no! No no no! Ciao ragazzi! Eh! Ciao gatto boy! Che fai? Non ti abbiamo chiamato tra me l'ora? Mi avete detto di prendere le candele! Ma questa bellissima torta è così grande! È per me? Sì! Happy birthday to you! Grazie! Grazie! Ma è bellissima questa torta! Sì! Piace anche a noi! Anche te è piacere! Scherzi a tutti! Vuoi mettere le candele finché arrivano gli altri? Sì! Ma voi avete visto quanto è grande questa torta rosa? È bellissima! E con tanta frutta sopra! Oh sì! Andiamo a vedere che frutta c'è! C'è l'arancia! Ciliegia! Fragola! Un pezzettino di kiwi! Mandarino! E te cos'hai di qua? Un gatto boy! Ma di qua ci sono tanti coniglietti belli belli! E ci sono le caramelline e le mandorle! Ma non è stata sola che non ha capito! No! Ma io dicevo la crema di mandorle! Festa! Festa! E tutte quelle che sono da voi! Ma dai! Basta! Io voglio infilare le candeline! Guarda! Qua ho quella blu! E quella gialla! Mi piace quella blu! E poi devo andare a prendere le altre ancora! Dai fammi mettere queste! Sì! Ho visto che le hai portate! Oh! Tutte di qua! Eccole! Tutte quante! C'è quella rossa! C'è quella verde! E un'altra gialla! Hmm! Allora dai! Mettiamole insieme! Vieni! Ma voi avete messo tutti questi colori uguali! Hmm! Guarda! Infilo con la blu e con la gialla adesso! Guardate anche voi bimbi! Vai! Io volevo vedere come la fai! Ehm! Che bravo che sei! Ora! Tocca quella gialla! Sì! Dove la metti? Dove la metti? Di qua! Di qua! Guardate! Oh! Io sono tornata! Sono lavata la faccina! Che fate? Oh! Le candele! È bellissima questa! Tu la che fai? Mettiamo la candela gialla! Ora! Prendo la rossa, la verde e l'altra gialla! E le metto tutte! Guardate come sarò veloce adesso! Magia! E' velocità supersonica! Eccole! Stanno arrivando gli altri! Yuhuuu! Ciao! Ciao amico! Auguri! Grazie! Grazie ragazzi! Avete visto che bellissima torta? Sì! È molto molto bella questa torta! Vero Gufetta? Sì! È bellissima! Che l'ha fatta? Ragazze? Secondo me l'hanno fatta le ragazze! Mmm! Hai messo tutte le candele? Sì! Sono stato veloce! Vero ragazze? Avete visto? Anche voi? Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! No 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 no! Vroom 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 vroom! Yuhuuu! Guarda Gatto Boy! Questa è per te! Oddio! Non riesco a guidarla da sola! È troppo forte! Ti piace? È turbo! È turbo cat car! Wow! Che bella! Ma è tutta blu! Ma è come me! È per te! Infatti l'abbiamo fatta apposta! Ci salgo subito! Oh ma è la torta? Oh! Eh! Avete visto? Bimbi è andato via! Lì si sta divertendo tanto! Noi mangiamo da sole la torta! Ehi! Bimbi sono ritornato! Ma questa macchina che i miei amici mi hanno regalato è bellissima! La volete provare anche voi? È vero! Se volete scrivetelo sotto nei commenti! Ora direi ai ragazzi di mangiare la torta! Perché siete stati bravissimi! E' molto gentile a fare la torta! E a regalarvi questa bellissima gattomacchina! Noi vi salutiamo! Ciao ciao! Noi mangiamo la torta! Ciao bimbi! Ciao ciao! Scrivete e commentate! Mi raccomando!